Ciao, 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 ben trovato, ben trovata sul mio canale Feili ASMR e grazie per aver scelto questo video rilassante Allora, in questo video vorrei mostrarti alcuni acquisti che ho fatto negli ultimissimi giorni Si tratta di profumi, sono tutti profumi low cost, quindi dal prezzo bassissimo Però, secondo me sono molto interessanti Hanno, diciamo, un concept comune E ti parlerò anche di un profumo che non posso mostrarti perché non ce l'ho qui Ho due bottigliette di campioncino, non so delle bottigliette, sono dei fraconcini Che mi sono stati gentilmente riempiti per la prova dal ragazzo della profumeria da cui mi sono regata qualche giorno fa E però voglio parlarti anche di quello, quindi sarà un video in whispering con del tapping, soprattutto sul vetro E niente, spero che ti piaccia Se l'idea di questo video ti piace ovviamente lasciami un like di supporto E se ancora non sei iscritto o iscritta a questo canale, fallo adesso, mi raccomando Cliccando la famosa ormai Ca-fa-de-li-na Per non perdere i prossimi video rilassanti A proposito, una cosa che non ti ho ancora mostrato è Il mio smalto Mi piace tantissimo È uno smalto magnetico e ha questi colori che vanno dal porto bianco Che ha girato un po' l'inquadraturo Allora, direi di partire subito, ma come prima cosa Non dimentichiamoci di lanciare il consueto spot pubblicitario Quindi ti invito ad abbassare il volume Farò un countdown da 5 a 0 Per permetterti di abbassare il volume E ci vediamo subito dopo lo spot 5 4 3 2 1 Spot Allora, il primo profumo che voglio mostrarti e di cui voglio parlarti E' lui Il flacone In vetro Ha questa forma molto molto particolare C'è questa petta Il tappo è così Questo è Pure Honey Di Kim Kardashian Stavo cercando Da un bel po' di tempo Un profumo al miele E' qualcosa che Non a tutti può piacere Perché Ovviamente I profumi al miele Sono decormante Sono sicuramente molto dolci Però per l'inverno Devo dire che i profumi dolci Li preferisco E' Il mio profumo preferito Per l'estate E' uscito fuori produzione Era un Talgato Fiorito Con una nota anche fruttata Non lo so, buonissimo davvero Non lo so descrivere Però per l'inverno Sono sempre andata su profumi Veramente molto dolci Dal famosissimo ormai Ipnotic Poisson Che è molto buono Però veramente Tanto tanto inflazionato Almeno popolare Credo Dior Addict L'Eau de Parfum Sono quelli che ho comprato Ricomprato Continuazione Ultimamente Ho anche Utilizzato E finito L'Antedict Rouge Che ha quella nota di ciliegia Particolarissima Se non l'avete mai Provato Vi consiglio di vaporizzarlo Sul polso E sentire come vi sta Ovviamente Perché poi Il profumo Deve starmi bene Non esiste un profumo Non esiste un profumo Allora il profumo si apre Con Una nota Aspra In realtà Io credo che sia Qualcosa di fresco Non so Non so definire bene Se sia Tipo menta O Agrumi Forse Entrambe le cose Sembra una caramella Balsamica Però Già si Intuisce Piano piano Il cuore Del profumo Che è appunto Il miele Tra un po' Vedrò anche Che tipo di miele Santo io All'interno Di questa Composizione Comunque Volevo leggere Le note Perché Ovviamente Io non mi sono Documentata prima Ma avrei dovuto È un profumo Che È reperibile Credo solo Online Perché io In profumeria Non l'ho trovato E E quindi Sono andata Un po' così A senso Allora Fiori di mandarino Rosa delicata E fresia In apertura È il mandarino Probabilmente Non lo so Nel cuore Abbiamo Orchidea Miele Caprivoglio E geratapi E nel fondo Muschio Cocco E vaniglia Io più che il cocco Sento L'odore Delle creme Appronzanti Quasi un monoi Ma è una È un tappeto Lo sento Un profumo Che Sul finale È molto rotondo Forse rotondo Si dice più dei gusti Che dei profumi Non lo so Devo migliorare Le mie tecniche Di descrizione Dei profumi Comunque Se provate A indossarlo Sarà come Avere il profumo Di una caramella Balsamica Che però Ha questo Rattro gusto Dolce Io sento Un miele Non è il miele Dato tipo Dai fiori di tiglio Che è il mio preferito È più come Non lo so Una bevanda Un tè Con dentro il miele Capito Comunque È particolare Il packaging Poi è bellissimo Lo ricomprerei Solo per il packaging Praticamente Poi 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 Sempre rimanendo In tema Miele Cercavo Il profumo Per quest'inverno Ma non so Se l'ho trovato Ancora Sposto un po' Il microfono Perché se no Mi copre Completamente La faccia Ok E dopo aver Terminato L'antenna Di De Roush Ho detto Con questa R Fantattica E Ho comprato Altre cosine Questo In particolare Si chiama Honey Ed è Composto Semplicemente Da Miele Il brand The library Of fragrance Ovviamente Vabbè Non leggete Niente Perché Così Perché è Molto Luminoso Lo scenario Qui Questo E questo Che ve lo descrivo A fare Questo Sa Di miele E miele Puro Anche qui Non è Il miele Dei fiori Di tiglio Forse avrei Dovuto Cercare Un profumo Al tiglio Ciao Jesse Ci mancavi Ora lo vaporizzo Questo è veramente piccolino 30 ml Mentre Quello di King Cartosha È una versione più grande Non so dire Quanti ml Ci siano All'interno Mi fa impazzire Il suono Del tapping Qui sul lato De la confezione Se vi piace La mia Nailard Mettete un cuoricino Viola Come sarà semplice Descrivere Questi profumi Solo miele Ovviamente L'ho vaporizzato Nello stesso punto In cui ho vaporizzato L'altro Ma devo dire Che il mix Non è male Ok Questo è molto Molto più dolce E sa ovviamente Di miele Lo provo A vaporizzare Questo Prova Avete tolta La nota alcolica Che È la prima Ok Sì Molto molto caldo Sarebbe stato Ottimo Secondo me Se l'avessero Pensato In combinazione Con La cannella Miele e cannella Sapete che buono Mamma mia Vorrei 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 Comporre Un profumo Così Miele e cannella È meno Persistente Dell'altro Che comunque Già non ha Una persistenza Di per sé Estrema Non dura Tutta la giornata Ecco Va vaporizzato Più volte Nel corso Della giornata Se volete Tenerlo Sempre addosso A meno che Non lo vaporizzate Sui vestiti Devo dire Che sui tessuti Durati Più che sulla pelle E quest'altro Il miele Secondo me Dura ancora meno Però Vaporizzato Sui punti caldi Quindi Sui polsi Dietro le orecchie E poi Lo metto anche qui All'interno Insomma Nella piega Del braccio Ha un certo effetto Poi Andiamo avanti Ho comprato Questo Allora I prossimi Che vi mostrerò Sono profumi Che ho Già Testato Questo in particolare Lo compro E lo ricompro Non so Quante volte Utilizzo come Deodorante Tesore d'Oriente Rosa nera E Laptano Black Rose And Laptanum Non so Cosa sia Laptano Qualcuno Mi lo Per favore Allora Vabbè Ovviamente Utilizzo prima Il deodorante Normale Al talco Poi però Nella Parte Diciamo qui Sopra i vestiti Vaporizzo anche Questo Perché Non lo so Trovo che L'odore del deodorante Anche sia buono Perché Utilizzo sempre Quello al talco Dopo un po' Sui vestiti Si ha Un po' Forte A me piacciono Gli odori dolci Ve l'ho detto E Il deodorante Che utilizzo Sa di pulito Però Non è dolce Ovviamente Questo è un profumo Molto caldo Cioè La rosa Io Non so Perché ragazzi Però adoro I profumi Che contengono La rosa All'interno Tranne Chador Chador Non mi piace E Non è speziato Non lo sento speziato Lo sento Caldo Avvolgente C'è questa Rosa E poi Ovviamente È un buchetto Di fiori Perché C'è questa Rosa Però Sul fondo C'è anche qualcosa Di più Se vogliamo Maschile Non mi piace Tanto Di vedere Così I profumi Perché Adoro Gli uomini Che portano Profumi Femminili O comunque Molto dolci E dico Solo che I miei profumi Da uomo Preferiti O meglio I profumi Che adoro Sentire Su Un uomo Sono Il Tiara Home Untance Quindi Solo la versione Untance Non il diorhome Normale Giup Ultra Violet Di Paco Rabanne E Andiamo Perché Ci sta Tipo Tommy Non mi ricordo Di chi sia Comunque Si adoro I profumi Dolci Anche se Gli uomini Però c'è qualcosa Di Intenso Diciamo Qui Alla fine Di questo Sul fondo Di questo profumo Non è solo Un profumo Delicatino Alla rosa Così Buono Veramente Buono Buono E poi L'altro Vaniglia E zenzero Allora Questo è un po' Più particolare Devo dire Tante volte L'ho vaporizzato Nella macchina Così Perché magari Lo portavo dietro In borsetta Mi piace avere Un buon profumo Anche in macchina Ovviamente La bella nota Di vaniglia E poi c'è Lo zenzero Che lo rende Un po' Particolare Un po' Piccantino Si può dire Così Adesso Lo vaporizzo Nell'unico Posto Rimasto Mi Che è L'altro Polso E E Più particolare Rispetto All'altro Cioè Per i miei Gusti È Molto Molto Intenso E Comunica Anche Osterità Nonostante Sia dolce E quindi Lo indosso Meno spesso Lo indosserò Meno spesso Infatti Ricordo che La confezione Ma era durata Tipo 4-5 anni Non lo so Prefettante Insieme a un altro Ancora Che però Non ricordo Quale fosse Sempre il tesoro In oriente Era il Quello Nella confezione Marroncina Con la scritta Arancione Molto Molto Buono Se qualcuno Sa di quale Sto parlando Lo scrivo sotto Altrimenti Dovrò andarmelo A cercare Confezione Marrone Scritta Arancione E sopra C'era Il disegno Di Qualcosa Tipo Pitture Rupestri Non lo so Insomma Questo e quello Mi sono durati Vramente Tanto Diciamo che Questo lo apprezzo Di più Dopo un po' Perché Riesce A essere Comunque Dolce Mi comunica Veramente L'Oriente In questo caso Qualcosa Piaggio In India Non lo so E Viene definito Come Un connubio Morbido Ma deciso Dove il cuore Lievemente Speziato Dello zanzaro E scaldato All'aroma Caldo E avvolgente La vaniglia Del madagascarra Infatti È vero È molto più Speziato Rispetto All'altro Un profumo Dalle sfumature Intense Che avvolge Accarezza La pelle Accompagnandoti Per tutta La giornata Io tipo Questo Su un ragazzo Lo vedo Proprio Molto Molto Bene Ok Questi erano I miei Ultimi Quattro Profumi L'altro Di cui Ho preso Solo Il campioncino È Ambrosia Sempre perché Stavo cercando Questo cavolo Di profumo Al miele E Mi è stato Proposto Ambrosia Che contiene Il miele Sì Ma contiene Anche la Mandorla È Molto 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 Buono Se vi piacciono I profumi Dolci È uno degli Imprescindibili Secondo me Il fatto Che non Mi convince Del tutto È che Io Senta Maggiormente La Mandorla Piuttosto Che il miele La mandorla Si sente Proprio In modo Spaziale Tantissimo E Sa di Buono Sa di Dolce Sa di Di Dolcetto Di biscotto Però Anche di Pulito Quindi È veramente Un'ottima Composizione Pare che Si sta Solo il 100 ml Se non Sbaglio E E E Niente Quindi Forse no C'è anche Sì C'è anche La versione Da 10 ml Che è quella Da viaggio Che per provarlo Non è niente male Però ecco Deve piacervi Proprio Il mix Mandorla Miele Se lo volete Provare Io Me lo consiglio Anche perché Tra l'altro È maggiormente Reperibile Nelle profumerie Si chiama Appunto Ambrosia E Niente Basta Siamo Arrivati Fatemi sapere Se volete Vedere ancora Altri video Relativi Ai profumi Devo dire Che non ne ho Più tantissimi Perché Ho fatto Un decluttering Pazzesco Che la maggior parte Delle cose Che sono all'interno Della mia casa Che erano All'interno Della mia casa Per un'esigenza Di ordine E di pulizia Però Qualcosa Mi è rimasto Ancora Se vi va Posso parlarvene Magari In un prossimo Video Vediamo Detto questo Spero Che vi siate Rilassati E rilassate Spero Che sia per voi Una buonanotte Fatemi sapere Qual è il vostro Profumo preferito In particolare Se avete Un profumo Dolce Preferito E se avete Mai provato Uno di questi E Niente Ricordatevi ovviamente Di mettere un like Di supporto al video E di iscrivervi Se non siete ancora Iscritte O iscritti E io Vi mando Tanti baci Di fattosi Ci vediamo Come al solito Se vi va Nel prossimo video Buonanotte